Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzini, questo nuovo video vi spiego come risolvere così il problema riguardo a Silent Hill 2 remake su PC ovviamente se stai riscontrando problemi all'avvio sul gioco può essere anche per via dei driver sulla tua scatagrafica o problemi sul sistema operativo oppure c'è qualcosa che blocca la cartella del gioco attraverso Windows Defender o l'antivirus come per esempio io uso Avast Premium Security e può essere che anche l'antivirus blocchi qualcosa nella sua cartella e quindi impedisce l'avvio del gioco quindi in questo caso iniziamo prima ad aggiornare un po' di driver e vedere quali sono anche i problemi sul gioco quindi andiamo direttamente a scaricare i driver per chi usa una scatagrafica Nvidia quindi ti ho lasciato in descrizione questa pagina qua ovviamente vai direttamente a trovare la tua scatagrafica vado a prendere GeForce serie 30, 30, 70, Windows 11 metti la lingua e fai trova io per ragionare sempre i driver uso il programma Nvidia App Beta che è veramente comodissimo quindi se vuoi installare proprio un driver grafico completamente senza nessun problema ti fa anche riavviare il sistema per completare la configurazione scarica il driver GeForce Game Ready che pesa 700 MB rilasciato il primo di ottobre scarichi e installi così il driver grafico questo qua invece è per chi usa il computer per lavorare poi per quelli che usano una scatagrafica AMD c'è il programma AMD Software Adrenaline Edition che ti permette di scaricare i driver e configurare la grafica sui giochi è come il programma Nvidia App che ti ho lasciato sempre in descrizione il programma Nvidia App scarichi e installi così la versione Beta tanto o usi Nvidia App per rimanere sempre aggiornato con i driver oppure lo fai direttamente tu manualmente sul sito dei driver questo qua poi abbiamo il programma Microsoft Visual C++ clicca su Visual Studio 2015 fino al 2022 scarichi il per 86 e il per 64 una volta fatto devi installarli tutti e due a me dice ripristina perché tengo già installati questi due software quindi tu installa e riavvia il sistema se non dovesse bastare vai direttamente anche sul gioco tasto destro sopra mostra attropozioni proprietà compatibilità esegui questo programma come amministratore e disabilita ottimizzazione schermo intero firme digitali se ci sono dei firme digitali qua ci clicchi sopra e installi così il certificato una volta fatto eseguiamo il programma come amministratore ed ecco che il gioco si sta avviando il gioco si è avviato senza nessun problema perché io tengo sempre aggiornato i driver sul mio sistema quindi una volta aggiornati così i driver delle schede grafiche e del sistema possiamo andare direttamente su Windows Update e vedere se ci sono degli aggiornamenti da fare quindi fai su Windows Update e ho scaricato così la versione verifica disponibilità aggiornamenti e vedetevi fare qualche aggiornamento cronologia degli aggiornamenti come puoi vedere ho installato così la versione di Windows 11 24 h2 appena rilasciata quindi installazione riuscita il 3 di ottobre aggiornamenti non riusciti riprova tutte poi all'inizio come dicevo il fatto dell'antivirus che potrebbe bloccare così qualche file cancellare qualche file nella sua cartella quindi per farti vedere vai su sicurezza di Windows protezione da virus e minacce andiamo direttamente su gestisci impostazioni esclusioni aggiungi o rimuovi esclusioni in questo caso la parte delle esclusioni è molto importante perché l'antivirus poi non andrà mai più a rilevare problemi o altre cose così nella cartella del gioco di Silent Hill 2 quindi in questo caso tu devi inserire la cartella quindi aggiungi un'esclusione cartella tu vai a mettere proprio la cartella del gioco qua dentro quindi vai nel tuo disco dove hai installato il gioco e prendi la cartella quindi la cartella Silent Hill 2 e basta metti solamente la cartella qua dentro nelle esclusioni per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao